Torta di carote e mandorle al miele Un dolce sano e nutriente, ricco di vitamine e antiossidanti, della tradizione siciliana, ottimo come merenda o colazione. La torta di carote e mandorle al miele è un dolce profumato, soffice e morbido che conquisterà tutti i vostri ospiti. Per preparare la torta di carote e mandorle al miele, iniziate lavando e grattugiando le carote, poi trasferitele in una ciotola capiente e unitevi la farina di farro integrale setacciata, lo zucchero di canna, la cannella in polvere, le mandorle tritate, il lievito e un pizzico di sale. In un'altra ciotola, sbattete le uova con l'olio di semi e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo, poi aggiungete il composto alle carote e amalgamate bene gli ingredienti. Versate l'impasto in una tortiera di 24 cm di diametro, precedentemente imburrata e infarinata, e cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per circa 40 minuti. Per la crema di ricotta, in una ciotola, mescolate la ricotta con il miele, il succo di limone, un pizzico di sale e un cucchiaino di cannella in polvere. Quando la torta sarà pronta, sfornatela e lasciatela raffreddare prima di farcirla con la crema di ricotta. Decorate la torta con delle mandorle tritate e servite. La vostra torta di carote e mandorle al miele è pronta per essere gustata.